Ciao a tutti, ciao a New York, ciao a me presentatori Ciao a tutti, sono Cristi Ferrusso e sono qui a Palermo, Sicilia, a Radio Italia Live Ciao ragazzi in America Ciao italiani, americani e a New York Sì, grazie molto, in bocca al lupo per stasera Grazie molto Say hi from Italy to New York Tour negli Stati Uniti e partiremo da Radio City Music Hall il 6 febbraio Un saluto a tutti gli ascoltatori italo-americani da Rocchino Ciao a tutti gli ascoltatori in America, ci vediamo là perché tra un povero Sono da voi Sunyuka a tutti gli americani e a tutti gli italiani in America Hi, è bello che ti vediamo Quando ti sentite le persone dentro di noi Wow Siamo sentite la fonte delle persone e non solo delle persone, ma è fonte È molto fonte, è molto fonte Un saluto a tutti gli italiani in New York e gli americani Ci vediamo in America molto presto Ciao a tutti gli italiani e americani che seguono tra l'Italia e l'Italia in generale Ciao, conto Ciao a tutti gli italiani in generale Ciao a tutti gli italiani in generale